Il dottor Peter Kovacs, medico chirurgo specializzato in odontoiatria, ha avviato la sua attività odontoiatrica nel 1980 a Roma, prima nella sede di Piazzale Clodio e attualmente nel quartiere Boccea, inviata a Deuda Sessa. Sin dagli inizi dell'attività, lo studio del dottor Kovacs si è specializzato in quella che allora era un'innovativa branca dell'odontoiatria, che si stava diffondendo all'estero ma che era ancora poco diffusa in Italia, l'implantologia. Lo studio è specializzato in chirurgia, implantologia, endodonzia, parodontologia, conservativa e protesi. Confortato da numerosi studi ottenuti grazie a questa nuova terapia, nel corso di quasi 30 anni di attività, lo studio ha approfondito e migliorato la propria esperienza nel campo implantare, ma non solo, anche in quello della parodontologia, conservativa, della protesi fissa e mobile. Secondo me l'implantologia è il futuro dell'odontoiatria, perché quasi ormai tutto torna intorno all'implantologia con la protesi sull'implanto, senza sacrificare i denti naturali. Questa arma in più ci consente di lavorare molto più tranquillo, senza grosse modifiche del sistema odontostomatologico. Un materiale scarso ti dà dei risultati scarsi, è un settore che secondo me non si può risparmiare, soprattutto perché incide sulla moralità di chi opera e sulla soddisfazione del paziente alla fine. Dall'inizio a oggi lo studio ha sviluppato un'odontoiatria sempre all'avanguardia in tutte le sue branche, avvalendosi delle più innovative tecnologie per offrire ai propri pazienti i più alti standard qualitativi, ma con una particolare attenzione anche al rapporto qualità-prezzo, per garantire ai pazienti il massimo della soddisfazione. Essendo ormai un po' conosciuto in questo campo, la gente viene sapendo che faccio questo tipo di interventi e un po' è già preparato, chiaramente poi è un fattore pure del prezzo, poi un po' di tutto, comunque la maggior parte dei pazienti che vengono non vengono per la mobile, sapendo che io faccio l'implantologia, vengono mandati da altri che sono già stati pazienti miei da anni, da decina di anni, che ormai da 20 anni che metto gli impianti. Grazie. Grazie.